Con la gradita presenza di Dario Chiozzotto, giornalista della rivista Automobilismo, ritorna anche nel 2013 il consueto appuntamento mensile con la testata del gruppo Edesport Editoriale. Cari telespettatori, con estremo piacere che anche questo mese abbiamo tra i nostri ospiti un redattore della rivista Automobilismo, Dario Chiozzotto. Ciao Dario. Ciao, buonasera. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Abbiamo appena passato le vacanze invernali ma in redazione ad Automobilismo si è lavorato sodo. A partire dalla copertina è una novità estremamente interessante per il mercato, sia dal punto di vista ecologico che economico, la nuova Toyota Auris Ibrida. Sì, è una media che combina appunto un motore tradizionale, un motore termico da 99 cavalli con un motore elettrico da circa, da oltre 80 cavalli. La potenza combinata complessiva è di circa 136 cavalli, confortevole, con un netto risalto di qualità anche per quanto riguarda gli interni, quindi diciamo addio alle plastiche forse un po' tristi della generazione precedente, interni più accattivanti e più spaziosi, oltre a un bagagliaio capiente di oltre 300 litri. Tanto ricordiamo un full hybrid, ancora appunto come diceva Dario, motore benzina e motore elettrico, c'è una berlina importante a circa 18 mila euro. Dario, in queste ore, mentre stiamo parlando, o magari saremmo appena andati in onda, si è aperto il primo giorno dell'anno. Un vostro giornalista è in queste ore a Detroit, tante tante novità quest'anno. Tante novità, è uno appunto dei tre appuntamenti più importanti dell'anno. Qui abbiamo appunto tra le principali novità la settima generazione della Corvette, spinta da un potente vuoto da 450 cavalli. La Mercedes CLA, che vedremo in Italia in concessionaria da aprile, che riprende un po' sullo stile della CLS, che appunto Mercedes lanciò nel 2003, disponibile con cinque motori, tre a benzina e due turbodiesel, arriverà anche in Europa. E poi c'è un'altra piccola novità importante per noi, la 500 elettrica, quindi è una vettura completamente elettrica, un motore da 110 cavalli. E poi abbiamo la Maserati quattro porti, appunto un'altra... Ecco, a Detroit si presenta staticamente la vettura, ma l'automobilismo è stata una delle uniche testate a livello internazionale che ha già approvato la Maserati. Esatto, sarà disponibile con due motorizzazioni, anche in questo caso un V6 e un V8, cambio automatico, otto rapporti per entrambi. La novità è la trazione, perché mentre la V8 resta a trazione posteriore, come la generazione precedente, il V6 sarà disponibile anche con la trazione integrale. È la vettura che dovrebbe sfidare le ammiraglie tedesche, la CLS, Mercedes, l'Audi, la 8, la serie 7. Dario, se Maserati è un sogno quasi raggiungibile per noi dal punto di vista economico, macchina importante, un sogno molto più vicino alle nostre tasche è la nuova Golf. È arrivata sempre nel centro prove di automobilismo. Ti faccio la prima domanda, è la solita Golf o ancora qualcosa in più? Esteticamente è abbastanza conservativa, rispetto alla sesta generazione non è stata stravolta, però è una vettura di grandissima sostanza, perché è proposta con il 2 litri TDI da 150 cavalli, sfoggia prestazioni di tutto rispetto, noi abbiamo misurato uno 0 a 100, inferiore ai 9 secondi, una punta massima di quasi 210 km all'ora e soprattutto è cresciuta come qualità, quindi come interni, capacità di carico, è una vettura di grossa sostanza, quindi una vettura che infastiderà molto le altre medie del segmento. In conclusione, con la nostra chiacchierata con Dario, ma anche nella parte conclusiva di automobilismo, il numero di febbraio in edicola da metà di gennaio, due comparative, due confronti, due vetrine importanti, una 6 Super SUV sulla neve di Cervigna e poi quattro vetture, GPL o metano, l'unico settore, l'unica nicchia in Italia che ha un trend positivo dal punto di vista della vendita. Quali sono queste vetture? Allora, abbiamo la Meriva, GPL, abbiamo provato la Ibiza metano, abbiamo provato la Mito Turbo, ecco, motore turbo, il GPL è molto interessante e la Hyundai i20. Abbiamo fatto dei rilevamenti, quindi le prestazioni e soprattutto i consumi, perché appunto chi si rivolge a questa tipologia di veicoli è molto sensibile al tema prezzo. È vero, c'è un aggravio, diciamo, rispetto alle altre versioni di circa 1.400-1.500 euro al momento di acquisto, però con una percorrenza di 10.000 chilometri abbiamo visto un guadagno notevole, perché in benzina si spendono circa 1.100-1.150 euro, che diventano 750 con il GPL, quindi un risparmio consistente se ovviamente il chilometraggio anno è di un certo tipo. Grazie a Dario di essere stato qui con noi. Direi magari il prossimo mese vogliamo ancora a te, non il direttore, ma non diciamo perché sei stato veramente perfetto e desaustivo. Grazie ancora. Grazie a voi.